Gara pazze e stravaganti al comunale di Castelnuovo. Castelnuovo-Nereto termina 3-3. I padroni di casa ribaltano il doppio svantaggio iniziale, ma quando tutto sembrava ormai indirizzato verso i binari del successo interno, i neroverdi subiscono il ritorno del Nereto all'ultimo minuto, con il gol di Nardini. Con le immagini di Anilo Di Giandomenico, passiamo agli elazi della rocambolesca partita. Pronti via, e dal terzo minuto il Nereto si affaccia pericolosamente in avanti. Ristovski sguscia via a Terrenzio che lo stende procurando il penalty. Dal dischetto si presenta Boito, che incrocia il punto giusto e sigla lo 0-1. Questo scuote positivamente gli uomini di Bitetto, che, galvanizzati dal vantaggio, si ripetono al settimo ancora con Boito, il quale è servito alla perfezione dalla destra, in fila natale per il raddoppio rosso-blu. Il Castelnuovo è frastornato, ma lentamente prova a reagire. Al diciannovesimo, Emili manda in porta De Giglio, che da due passi non riesce a gonfiare la rete. Più pericoloso il Nereto, prima con Boito e poi con Cipriani. Salva tutto Terrenzio. Da manuale, l'azione personale di Ristovski, che si mette in proprio, arma il tilo. Soltanto la traversa può dirgli di no. Nel finale di frazione si accende anche Alfieri. Il pallone rimbalza pericolosamente davanti a De Luca, che si esalta e respinge. A rientro dagli spogliatoi, il Castelnuovo accorcia subito lo svantaggio. È il settimo, quando sugli sviluppi di un corner, Emili con il petto smorsa sul secondo pallo dove arriva con i tempi giusti Ripa, che davvero non può sbagliare. Si riapre il derby abruzzese. Il Castelnuovo ci crede con Morelli, che si incune a centro aria, ostacolato da un avversario fra le proteste locali. Lascia proseguire il direttore di gara. È un forcing tutto nero-verde, ed a metà frazione arriva la massima punizione in favore del Castelnuovo. Salvatori salva di mano su una conclusione a botte sicura di De Giglio. Dal dischetto si presenta Ripa, che però si lascia ipnotizzare da De Luca. Sugli sviluppi del corner, Terrenzio svetta di testa, ma De Luca si ripete e salva il risultato. Il gol è però nell'aria. Ripa si fa perdonare quando da rapace d'aria sigla la rete che vale il pareggio. Il match si infiamma definitivamente, ed entrambe le compagini sfiorano la marcatura. Prima Cipriani, su calcio franco, scheggia la traversa. Poi Ripa difende la sfera ed ingirata lambisce il palo. È una gara pazza e divertente. Show di De Giglio in contropiede che rientra sul piede forte, colpisce Salvatori e la palla carambola sul legno. Lo emula Emili, che si accentra ed esplode la botta, impegnando seriamente De Luca. Il fantasista numero 10 ci riprova appena dopo con un dolce pallonetto che si impenna alto. In un arrembaggio infernale, alla fine il Castelnuovo la ribalta. Il sol De Mirri accende la sfida con De Luca che respinge. Sulla respinta è troppo facile per San Severino confiare la rete per il 3-2 locale. Si sbilancia allora il nereto alla ricerca del pari, allungando molto i reparti. Morelli in l'overciata tenta il gol della domenica. Dall'altra parte è molto più pericoloso Ristovski, che si conquista un corner prezioso. Sugli sviluppi dello stesso, infatti, nell'ultimo minuto di recupero utile, Nardini troppo solo svetta di testa e sigla il 3-3 finale. Non succede più nulla. In un'immacolata movimentata e stravagante, Castelnuovo e Nereto si spartiscono la posta in palio.